Ben ritrovati qui su Mac & Tech, oggi grande sfida in casa Xiaomi, 3 Xiaomi qua davanti, 3 Xiaomi di fascia medio-bassa, gli ultimi che abbiamo visto qui sul canale abbiamo a sinistra Xiaomi Redmi Note 5A, Xiaomi Redmi 5 Plus nel mezzo e a destra lo Xiaomi Redmi S2, tutti e tre i telefoni sono in versione global quindi pronti per l'utilizzo qui in Italia, in Europa con banda 20, Play Store installato, lingua italiana presente, insomma lo potete utilizzare subito appena lo accenderete, ognuno di questi telefoni e scusate già se sbaglierò i nomi perché ormai Xiaomi quest'anno come sapete ha fatto un milione di modelli, tutti più o meno con lo stesso nome e sicuramente mi andrò a incasinare ma partiamo subito con le dimensioni, andiamo a prendere uno e l'altro e gli mettiamo proprio uno sopra l'altro quindi lo Xiaomi Redmi Note 5A, il Plus nel mezzo e il sandwich lo completiamo con Redmi S2 innanzitutto cosa potete vedere? Beh, potete già vedere che il Note 5A è quello meno alto mentre il più alto è sicuramente il Redmi S2, infatti abbiamo un'altezza di 151 per quanto riguarda il 5A abbiamo un'altezza di 158.5 per quanto riguarda il Redmi 5 Plus e abbiamo 160 mm invece per quanto riguarda l'S2 come larghezza anche qui possiamo già vedere come il Note 5A è quello più stretto mentre poi nel mezzo si classifica ancora una volta il Redmi 5 Plus e il Redmi S2 invece è quello più cicciotto e così sarà anche nella tenuta a mano effettivamente quello più grande andiamo a vedere un po' i materiali, abbiamo plastica per quanto riguarda il 5A, è quello più economico dei tre, vi dico già il suo prezzo 80 euro circa su Gearbest lo potete trovare anche 120 euro circa su Amazon ed è quello più economico quindi abbiamo plastica sia per quanto riguarda la cover posteriore che anche il frame laterale quindi tutta, tutta plastica, singola fotocamera e singolo flash led poi abbiamo nel mezzo Redmi 5 Plus, questa volta abbiamo un telefono che costa circa 150 euro su Gearbest si va circa su 200 su Amazon Italia, alluminio questa volta, alluminio anche il frame laterale e invece le due bande qui sono in plastica perché come sapete tutti e tre telefoni sono dual sim e qui sotto per tutti i telefoni ci sono le bande quindi fatto per migliorare la ricezione abbiamo poi una singola fotocamera, doppio flash led e abbiamo anche il lettore di impronte digitali qui nel mezzo poi abbiamo l'S2 Redmi, in questo caso abbiamo materiali tutta plastica anche qui, anche il frame è tutta plastica, tutta plastica non abbiamo nulla in metallo, doppia fotocamera però, abbiamo il singolo flash led qui nel mezzo e poi abbiamo il lettore di impronte digitali qua nel mezzo come un po' sul Redmi 5 Plus quindi cosa abbiamo? Singola fotocamera, doppia fotocamera, qui abbiamo il lettore di impronte e qui ce l'abbiamo mentre il 5A che è quello più economico non ce l'ha mi dimenticavo di dirvi il prezzo, anche qui siamo attorno ai 150 euro su Gearbest, su Amazon lo troverete circa a 200 euro anche in questo caso, poi vedremo le differenze tra i due e quale dei due ovviamente conviene comprare andiamo a vedere un po' la tenuta in mano, tenuta in mano allora, Redmi 5A in plastica il grip migliore dei tre probabilmente, è però quello più squadrato, meno spondato ai lati quindi ha un'impugnatura che necessita ovviamente una mano bella grande Redmi 5 Plus è in alluminio quindi è molto scivoloso ci sono le cover per fortuna in confezione sempre quando riguarda il 5 Plus che Redmi S2 perché effettivamente sono grandi e sono anche molto molto scivolosi quindi Redmi 5 Plus con la cover poi ovviamente il grip è buono e così anche per quanto riguarda S2 è quello più grande da tenere in mano quello più difficoltoso, forse ci vuole davvero una mano o una grande quindi dei tre più maneggevole sicuramente rimane il 5 Plus anche se è un po' più scivoloso del 5A andiamo a vedere davanti, la parte frontale, qui abbiamo tutti i telefoni anzi andiamo a sbloccarli anche con l'impronta, questi due che ce l'hanno quindi 5 Plus e Redmi S2, vediamo chi dei due sblocca prima hanno lo stesso SOC SNAPDRAGON, proviamo di nuovo 1, 2, 3 via, 1, 2, 3 via, 1, 2, 3 via avete visto, tempi praticamente identici, fulminei abbastanza considerando appunto che hanno uno SNAPDRAGON 625 qui abbiamo invece uno SNAPDRAGON 425, quindi quello di fascia bassa di SNAPDRAGON 4 core, 8 core, 8 core, quindi ovviamente le prestazioni vanno a destra qui a sinistra abbiamo meno performance 2 GB di RAM, 16 GB di memoria interna c'è anche una versione Prime con 3 GB e 32 per quanto riguarda il 5A c'è il 5 Plus qui in questo caso che ha 4 GB di RAM e 64 GB di memoria interna espandibile e c'è poi anche qui il Redmi S2 che ha 3 GB di RAM e 32 GB di memoria espandibile c'è anche una versione 4, 64 tutti i tre telefoni sono espandibili tramite microSD quindi dual SIM rinunciando ad una delle SIM potrete andare a espandere di memoria il telefono da notare invece che su Redmi S2 questa cosa qui non vi sarà perché l'espansione è dedicata quindi non dovrete rinunciare a nessuna SIM avrete un dual SIM più microSD a parte vi ho già preparato i telefoni ACG qui nella parte frontale abbiamo una fotocamera per quanto riguarda il Note 5A da 5 megapixel con apertura focale 2.0 abbiamo il sensore di luminosità e prossimità abbiamo la capsula auricolare i tasti sono sotto il display sono sulla scocca quindi non sono dentro il display non sono retroilluminati questo un po' fa... mi ha fatto storgere il naso perché capire sempre non è facilissimo è che poi uno si abitua a memoria però di notte essendo che i cornici sono anche tanto grandi e il telefono è tanto grande si fa un po' fatica poi a premere il tasto effettivamente in modo corretto al primo colpo invece il Redmi 5 Plus sicuramente avrò sbagliato i nomi già un milione di volte perdonatemi ha i tasti che sono dentro il display così come anche il Redmi S2 entrambi hanno il supporto alle gesture questi montano l'ultima versione dell'Axomile l'ho proprio aggiornati prima di fare questo confronto andiamo a vedere le versioni che montano così giusto per darvi anche poi un'idea quando guarderete questo video abbiamo la MIUI 9530 e quindi Android 8.1 su S2 abbiamo ancora Nougat Subplus con la MIUI 9.5.11 e abbiamo ancora qui Nougat alla versione 7.1.2 con la MIUI 9.5.8 avete visto quindi Redmi S2 è l'unico che ha Android 8 installato poi in realtà la MIUI maschera molto la versione di Android quindi non ci sono queste grosse differenze a livello poi di software di sistema operativo come opzioni abbiamo più o meno le stesse su tutti c'è da notare che su questi due telefoni c'è anche la possibilità di andare ad impostare le gesture a pieno schermo quindi potete andare a rimuovere i tasti qui sotto e andare a configurare vabbè adesso non facciamo non facciamo il tutorial potete andare vedete con le gesture a muovervi tramite i menu e le opzioni ok l'abbiamo visto lo vedremo in dettaglio poi per l'S2 nella sua recensione comunque adesso per confrontarlo anche con 5A andiamo a riabilitare i tasti qui sotto vado a svuotare tutte le memorie in modo da far un confronto degno di nota qui sopra su 5 Plus abbiamo capsule auricolare abbiamo fotocamera con flash led qui davanti abbiamo anche il sensore di luminosità e prossimità stessa cosa per S2 però abbiamo una fotocamera decisamente migliore infatti qui la fotocamera frontale è da 5 megapixel mentre su S2 è da ben 16 megapixel infatti è un telefono diciamo per selfioni quindi per chi ama farsi selfie fotocamere posteriori adesso le andremo a vedere tutti e tre i telefoni hanno il led di notifica quindi sempre cosa molto molto buona gli andiamo un attimo a spegnere vediamo un po' i lati ma sono pressoché i densi a parte nelle dimensioni infatti abbiamo sulla sinistra per tutti il carellino delle due sim con slot dedicato su S2 abbiamo tutti i tre con la micro usb e si che Xiaomi è tanto avanti su tutto tranne che sui jack tasto d'accessione di spegnimento più in basso bilanciare il volume qui in alto e poi abbiamo anche qui jack delle cuffie da 3,5 su tutti e tre i telefoni abbiamo il secondo microfono qui e nel plus invece è leggermente spostato abbiamo poi su tutti i tre telefoni anche il sensore di infrarossi per utilizzare questi telefononi come telecomandoni eccoli qua tutti nel nostro bel confronto li rimettiamo giù li riaccendiamo li sblocchiamo con l'impronta chi può farlo questo sblocchiamo con il codice perché non può farlo anzi il codice l'avevamo tolto prima di questa recensione molto molto bene ovviamente questo è un video confronto non sarà approfondito su tutti i tre telefoni per ognuna di queste abbiamo fatto una recensione dedicata quindi vi lascio qui il link per andare a vedere direttamente la recensione se siete poi interessati approfondire per ognuno di questi tre telefoni andiamo a vedere un po' i display sono diversi in parte diciamo rispecchiano un po' poi il prezzo ok no grazie andiamo ad aprire tutti i display test qui così facciamo un confronto per tutti e tre così vedete anche un po' i tempi di apertura delle applicazioni abbiamo svoltato la memoria apposta per fare anche poi un confronto su queste cose andiamo a vedere coi vi parlo del display abbiamo un display facendovi vedere già anche le foto così guadagniamo tempo in questo confronto andiamo ad alzare tutta la luminosità al massimo anche qui luminosità che è buona su tutti e tre i telefoni e andiamo a vedere mentre vi parlo proprio del display allora qui abbiamo un 5.5 pollici IPS abbiamo un HD quindi 1080p 720 e abbiamo finito prendiamo delle caratteristiche che non ha alcuna particolarità si si vede bene abbastanza bene adesso magari lo faccio vedere uno sopra l'altro così magari vi rendete meglio conto di mille altre parole andiamo non so cosa ho detto ma vabbè avete capito il senso qui invece abbiamo il plus che ha un 6 pollici praticamente IPS full HD plus quindi è quello che ha risoluzione maggiore 403 ppi ha un rapporto di forma 18 nonni questo garantisce il fatto appunto che sia nonostante sia un 6 pollici quindi ben più grande di questo del Redmi 5A comunque come dimensioni sono più contenute come abbiamo visto in precedenza S2 che anche in questo caso vanta un 18 nonni di rapporto di forma però ha un 6 pollici IPS HD plus quindi 1440 per 720 con 226 ppi quindi quello che ha più risoluzioni in assoluto è sicuramente il Redmi 5 plus quello che vanta maggiore risoluzioni cerco di metterli qua in maniera che siano anche a favore di camera che non vengano rovinate diciamo dall'inquadratura la visione in camera spero che si vedano bene tutti e tre andiamo a girare le foto e vediamo un po' nel dettaglio cosa vi posso dire beh sicuramente il Redmi 5 plus è il telefono che ha più contrasto ha colori più saturi forse qua in camera adesso effettivamente lo sto guardando anche io dalla camera non risulta così però vedete già se ve le ho alzo un pochettino come cambiano le cose è un po' difficile farvelo vedere adesso in camera quindi fidatevi un po' di quello che vi sto dicendo il 5 plus diciamo il 5a e il Redmi S2 sono praticamente molto molto simili se volete risoluzione leggermente maggiore sul Redmi S2 però a occhio non si vede poi questa grande differenza mentre sul plus full hd plus questa differenza si vede e soprattutto si vede nei colori soprattutto nei colori vedete sono molto più saturi le immagini sono più definiti quindi sicuramente tra i tre Redmi 5 plus è il migliore come display torniamo indietro queste sono un po' le impressioni che abbiamo avuto anche durante la recensione comunque per approfondimenti vi rimando proprio al video andiamo a vedere adesso come aprono un po' le applicazioni multimediali andiamo a aprire il gestore delle pagine di facebook abbiamo resetato la memoria prima di tutti e tre i telefoni in maniera da farli partire contemporaneamente vediamo un po' speriamo di riuscire a beccare l'icona 1,2,3 via ok sembra si forse ce l'ho fatta è incredibile ma vero avete visto praticamente Redmi S2 e 5 plus quasi identici ovviamente più lento Redmi Note 5A quando vado a fare lo scrolling lo facciamo tra questi due sono ovviamente stesso processore non c'è nessun tipo di differenza praticamente sul 5A 425 invece vedete fa un po' più fatica a muoversi ma questo era prevedibile costa anche praticamente la metà questo telefono e devo dire che tutto sommato non va così male in assoluto abbiamo visto quindi il tempo di apertura e la velocità di esecuzione andiamo a aprire magari anche instagram apriamo il nostro instagram vediamo se lo becchiamo dove sei finito di qua ok 1 2 3 via l'ho cliccato contemporaneamente e qui avete visto le differenze sono minori abbiamo S2 e Redmi 5 plus che arrivano ovviamente prima però in questo caso avete visto instagram su 5A si è aperto praticamente in contemporanea e lo scrolling non è poi più così male rispetto al gestore delle pagine che vabbè prendetelo un po' come se fosse facebook in quanto è un'applicazione davvero pesante e fa praticamente le veci dell'applicazione facebook standard quindi tra questi tre telefoni diciamo per un uso facebook così S2 e Redmi 5 plus sono decisamente migliori mentre per un uso normale il Note 5 qua secondo me basta e avanza ma adesso andiamo a fare proprio un confronto anche di benchmark so che molti sono appassionati di questo tipo di confronti lo facciamo e vediamo poi il risultato finale lo avviamo praticamente insieme su tutti e tre i telefoni e Grazie a tutti. 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 Mentre S2 e 5 Plus sono lì, diciamo leggermente meglio 5 Plus, qui sotto vedete in dettaglio le varie classifiche per le varie tipologie di test che abbiamo fatto. Quindi, ok, quello che avevo già accennato, a destra e in mezzo abbiamo dei telefoni sicuramente più rapidi, a sinistra come anticipavamo prima, invece abbiamo un telefono un po' meno reattivo, diciamo così. Come batteria abbiamo una batteria da 3080 mAh per quanto riguarda il 5A, abbiamo un Redmi 5 Plus invece con una batteria da 4000 mAh, mentre sull'S2 è da 3080 mAh, quindi queste due batterie sono uguali. Allora, come è durata direi buona per 5A e Redmi 5 Plus, un po' meno per S2, il re dell'autonomia direi Redmi 5A e subito dopo il 5 Plus e in ultima direi Redmi S2. Cosa vuol dire? Vuol dire che concluderete una giornata con tutti tranquillamente, con due giornate per Note 5A e rischiate anche di farle col 5 Plus, comunque buona diciamo in generale la batteria per entrambi i telefoni. Andiamo a vedere adesso un po' nel dettaglio la fotocamera posteriore, vediamo un po' anche le foto che abbiamo fatto proprio di test. Per questo confronto abbiamo una fotocamera del Redmi 5A che è una 13 megapixel con apertura focale 2.2, mentre sul Redmi 5 Plus è da 12 megapixel e sul Redmi S2 è da 12 megapixel quella primaria più 5 megapixel a secondaria, diciamo è l'unico infatti che ha due fotocamere con apertura focale 2.2. Tutti hanno il PDF, il tuo focus è l'avimento di fase e tutti hanno un flash LED dove abbiamo invece sul Plus un dual flash LED a doppio colore, quindi quello che ha il flash più potente dei tre. Allora in generale cosa posso dirvi? Posso dirvi che sicuramente il Redmi S2 fa le foto migliori dei tre, è anche un telefono che nasce per quello, ha l'intelligenza artificiale per effettuare effetti blur, effetti bouquet, chiamateli come volete, effetti reflex. Stiamo proprio vedendo un esempio adesso, il risultato è buono ma non è eclatante, anche qui sicuramente non è il classico cinesone e si sapeva perché sono miei quando fa le cose le fa bene, però lo scontornamento, vedete, del soggetto in primo piano non è certamente perfetto, si vede una sfocatura, non è proprio ben... delineato il contorno del soggetto in primo piano. Redmi 5 Plus forse è quello che mi ha un po' più deluso per quanto riguarda le fotocamera, foto nulla di che, forse addirittura alle volte il 5A che costa meno lo ha battuto, quindi anche qui vedete stanno proprio scorrendo le foto, trarete voi poi i vostri giudizi, io guardandole al computer devo dire che il 5A e il Redmi 5 Plus non ho visto sta grossa differenza, anzi alle volte come dicevo il 5A addirittura foto migliori. Le cose peggiorano per tutti e tre quando andrete in notturna, anche se il Redmi S2 con la doppia fotocamera fa foto leggermente migliori durante le ore notturne quando c'è poca luminosità. Cosa da dire invece per i video, sicuramente anche qui il Redmi S2 ha una stabilizzazione digitale davvero molto molto buona come potete vedere, 1080p video registrati in 30 fps, secondo come anche per Redmi 5 Plus e Redmi Note 5A, forse qui leggermente meglio il Plus però nulla, nulla davvero di che c***o. Allora cosa dire direi che 5 Plus ha l'audio migliore dei tre, quello che è anche un po' più bassi, scarso invece su Note 5A anche se il volume è davvero elevato però bassi praticamente non ce ne sono sul 5A, Redmi S2 diciamo è appena appena inferiore al Redmi 5 Plus come volume, qualità più o meno uguale però tra tutti e tre direi audio Redmi 5 Plus. Andiamo a vedere adesso le conclusioni finali, abbiamo visto un po' come girano, la mia idea è fluida su tutti e tre i telefoni, quindi per un uso quotidiano, se non avete esigenza di performance diciamo elevate ma volete Whatsapp, aprire con calma Facebook, guardarvelo, utilizzarvelo, l'ho usato, avete visto la recensione se non l'avete vista andatevelo a vedere, ero stato davvero entusiasta di questo 5A soprattutto rapportandolo al suo prezzo, devo dire che è un telefono davvero molto molto buono, per un utilizzo normale, classico di un telefono secondo me è più più che sufficiente, se invece volete fare foto belle, ovviamente il 5A non è un telefono consigliato, visto che ce ne sono altri due qui a fianco, non è consigliato neanche il 5 Plus per quanto riguarda far belle foto, il 5 Plus è sicuramente quello che si tiene meglio in mano utilizzando la sua cover, quello che ha la risoluzione migliore a livello proprio di display è anche quello che va meglio sotto il comparto audio. Come performance siamo lì, con l'S2 Redmi, quindi se volete le performance potete scegliere uno di questi due telefoni, sono praticamente identici, risoluzione però maggiore per il 5 Plus. A chi consiglia invece il Redmi S2? Beh, a chi vuole fare belle foto, diciamo che rapportando i prezzi di questi tre è comunque il migliore per quanto riguarda la qualità delle fotografie e anche dei video, buona davvero la stabilizzazione digitale, quindi promosso anche il Redmi S2 sotto questo punto di vista, quindi vi consiglio se volete fare belle foto, avere un telefono comunque performante è certamente un telefono da tenere in considerazione questo Redmi S2. Per il resto abbiamo un telefono uguale all'altro, la MIUI è la 9 per tutti e tre, quindi le funzioni sono più o meno quelle, a parte ad esempio come abbiamo visto le gesture che qui su 5A non sono state abilitate, in ogni caso comunque sono tre ottimi telefoni, brava Xiaomi, sempre un ottimo rapporto qualità prezzo, è sbarcata anche ufficialmente in Italia, trovate questi tre telefoni su Amazon, vi lascio qui sotto in descrizione il link eventuale per l'acquisto se siete interessati, vi lascio anche l'acquisto tramite link da Gearbest dove li ho acquistati io dalla Cina e mi raccomando selezionando spedizione Italy Express per ognuno di questi tre non andrete a pagare dazi doganali, si arrangerà proprio Gearbest a pagarli per voi, quindi andate tranquilli, selezionate spedizione Priority Mail Italy Express e andrete tranquilli. Quindi sotto in descrizione il link per l'acquisto, se avete dubbi o domande mi raccomando lasciatemi il link qui sotto, per questo video confrontone tra gli Xiaomi è tutto, un saluto da Matteo per Mechitech. Ciao!